Sai come si alimenta la paura? Come? Vestendo di verità delle false evidenze. Avevo la brutta abitudine di sottovalutarti. Di fronte a un ostacolo. Pensavo che non ce l'avresti fatta. Ho sentito dei cat. Portavano dei montelli. E' strana della data importante che tu ci racconti tutto. E' un messo a me. Il mio motto è se vuoi vincere alla lotteria, ma dagli altri soldi ti invito. Non si ricorda. E' quello che faccio, è il mio lavoro. Come dico sempre, se mi vieni è il giorno peggiore della tua vita. E' un messo a me. E' un messo a me. Grazie a tutti.